Dio terzo decimo, mensis octobre, in santorum album, referato. Papa Francesco lo annuncia in latino come prevede il rito del concistoro tenuto stamattina il prossimo 13 ottobre in pieno sinodo per l'Amazzonia proclamerà cinque nuovi santi, fra loro il beato John Henry Newman, cardinale inglese, da giovane consacrato diacono della chiesa anglicana poi dopo un intenso percorso convertito alla fede cattolica. Insieme a lui l'italiana madre Giuseppina Vannini per tre volte giudicata inadatta alla vocazione religiosa, poi fondatrice delle figlie di San Camillo dediti ai malati. Santa insieme a sua rima dulce che trasformò in un ospedale il pollaio del convento brasiliano dove viveva, Margherita Bais, la laica svizzera segnata dal dono delle stimate, e madre Marianne Teresi a Chiramelle, l'indiana che ebbe esperienze mistiche. Diffusa oggi inoltre la nota della penitenzieria apostolica sull'inviolabilità del segreto in confessione, ogni azione politica attesa a forzarlo, si legge, costituirebbe un'inaccettabile offesa verso la libertà della chiesa. In un'intervista il penitenziere maggiore, il cardinale Mauro Piacenza, ha poi precisato che la nota non è in alcun modo né una giustificazione né una forma di tolleranza dei casi di abusi da parte del clero. Cresce infine l'attesa per la visita di Vladimir Putin la terza in Vaticano giovedì prossimo 4 luglio. Non sarà questa l'occasione per invitare il papa Mosca, ha detto il Cremlino, mentre il metropolita ortodosso Ilarion ha aggiunto ogni giorno che passa ci avvicina a quell'evento.